Sono Simonetta, insegno recitazione cinematografica per adolescenti e adulti. I miei corsi si articolano in questo modo. Nella prima parte dell'anno c'è un lavoro tecnico, soprattutto basato sul metodo Strasberg, in cui si impara ad entrare nel dettaglio, quindi a lavorare sul piccolo e sul particolare, come si fa nel cinema, e si lavora soprattutto sull'improvvisazione e sull'esercizio scena. Nella seconda parte del corso, che di solito è nella seconda parte dell'anno scolastico, quindi dopo le vacanze di Natale, si lavora su scene, monologhi, dialoghi, improvvisazioni davanti alla telecamera, quindi si impara a stare davanti alla macchina da presa. Il corso ha un saggio finale che viene girato insieme agli allievi e poi montato. Quest'anno la particolarità del mio corso, di entrambi i corsi, è che nella seconda parte dell'anno avremo degli ospiti a tenere dei pomeriggi di incontro con gli allievi e saranno professionisti che lavorano nel mondo del cinema, quindi sarà una grande occasione di approfondimento sui temi che riguardano il settore cinematografico. Ripartiamo insieme! Ripartiamo insieme! Ripartiamo insieme! Ripartiamo insieme! Alla prossima Iovo